Allora, ci ha raggiunto anche l'assessore Priscilla Schiano, innanzitutto la devo ringraziare di tutta la disponibilità che ci avete dato. Grazie a voi per il lavoro che avete fatto, per come vi siete posti, per come ci avete aiutato, per come avete abbracciato il nostro palio, come praticamente facciamo noi di Santo Stefano. Quindi il ringraziamento lo faccio io a voi. Lei ha visto che dalla fuga ha fatto cadere anche il palio, perché lei stasera ha vinto il palio. Sì, io questa sera ero emozionata perché il mio ruolo non mi permetteva, io dovevo essere imparziale. Ci sono state delle polemiche che hanno coinvolto il rione Fortezza, a cui io sono legata dalla nascita. Però io penso che poi alla fine con l'ente Paglio e i calpitani si sia trovata la soluzione migliore. E oggi comunque si è dimostrato che comunque il migliore vince, cioè il più forte vince. E loro l'hanno dimostrato a dispetto, diciamo, di tutto quello che si poteva dire. Io sono Fortezza Iola e sono estremamente felice di questa vittoria. Tanto ero emozionata che mi è caduto lo sentardo. Si, ho fatto danno. Allora, Assessora, al di là del palio, guardi questa cartolina che stiamo inviando nel mondo. Eh, questo è il mio argentario, è veramente bello. Io spero che ovunque arrivi questa immagine, ecco, questo è il nostro territorio, queste sono le nostre bellezze. Questo è quello per cui io dico vale la pena a volte non prenderci solo gli onori, ma anche gli schiaffi, perché amministrare non è facile. È un territorio difficile, ma quando vedo queste immagini dico ne vale la pena. Tanti ci hanno telefonato, messaggiato un po' da tutto il mondo, soprattutto i santostefanesi, che non potevano essere qua. Cosa vuol dire a loro? Beh, io immagino cosa possono provare, perché io ho un fratello che navigava, che naviga, e mi ricordo che i primi anni, se lui non era a casa a vedere il palio, piangeva tutto il tempo del palio. E il mio babbo teneva praticamente al telefono mio fratello per raccontargli il palio minuto per minuto. Noi siamo riusciti, ecco, senza mettersi al cellulare, a far vedere ai nostri santostefanesi il palio di cui sono innamorati. Veramente in tantissimi ci hanno messaggiato, ci ha fatto molto piacere anche a noi, perché al di là dello sforzo, che comunque per lavoro stiamo facendo e facciamo ben volentieri, vediamo anche riconosciuto la bellezza di questo splendido argentario e portarlo in tutto il mondo per noi è un grande onore. E di questo devo ringraziare il dottor Tulino e l'amministrazione comunale. Vorrei che lei estendesse questo mio ringraziamento al sindaco e anche a tutta la giunta. Sicuramente e sono convinta che loro la pensano come me, per cui grazie a voi di averci permesso, con tutte le ristrettezze, perché siamo stati uguali, perché siete bravi, perché siete stati bravi, io sono contenta. Grazie Assessore, grazie, buona serata, arrivederci.